Bisogna che piova. Lo abbiamo sentito dire spesso durante la scorsa estate, segnata dalla siccità con il livello dell'aereo e minimi storici. Le danze della pioggia non servono per l'ufficio d'ambito di Lecco e l'aereo reti holding e meglio prevenire e educare al corretto uso dell'acqua. Dal 2016 propongono alle scuole della provincia progetti che stimolino la curiosità e la conoscenza della risorsa idrica. L'anno scorso, post emergenza Covid, le iscrizioni sono aumentate, oltre 4.500 alunni e 200 classi provenienti da 34 comuni. Sull'onda della crescita delle richieste l'offerta si amplia e si apre a tutti gli studenti dai 3 ai 14 anni. Video, cartoni animati, film, documentari, racconti, testi di apprendimento, giochi educativi e materiali didattici, ancora più ricchi rispetto alla scorsa edizione con contenuti in lingua inglese ed educazione civica. Torna al laboratorio didattico in presenza tenuto da esperti di educazione ambientale e ancora sarà possibile svolgere visite guidate agli impianti gestiti dall'aereo reti holding e svolgere un tour virtuale del depuratore di Calolzio Corte e della sorgente Moioli. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre. Gli insegnanti potranno decidere di aderire al progetto iscrivendo le proprie classi a una o più proposte, scoprendo così un mondo di argomenti interessanti dedicati al tema dell'acqua da condividere e approfondire con gli studenti. A concludere il percorso, tutte le scuole, anche quelle che non hanno aderito ai progetti, potranno partecipare a un concorso a premi. Si vuole arrivare a coinvolgere tutti i giovani e giovanissimi, affinché questi cittadini di domani abbiano la giusta sensibilità per il corretto uso quotidiano dell'oro blu.